e suona la campanella per gli ultimi 400 metri di questa gara entusiasmante finale incandescente occhi puntati su Valente che prova a forzare il ritmo ma attenzione attacco di Bezzi che cerca di sorprendere gli avversari con una volata lunghissima in fondo al gruppo Salvioni sembra mollare quando mancano ormai 200 metri ma cosa fa? taglia in mezzo al campo sta guardando qualcosa è svalorditivo ha tagliato letteralmente la curva eccolo che sbucca sul rettilineo davanti a tutti incredibile grandissima intuizione di Salvioni che ora passa in testa a 15 metri di vantaggio Valente cerca di recuperare Bezzi lo affianca vince incredibilmente Salvioni Gianluca a Salvioni una vittoria sensazionale ha staccato tutti nella curva grande grandissima scelta la sua è il nuovo cammino grazie a tutti